L'attesa è terminata. Dopo l'ultima burrascosa tornata elettorale e l'elezione dei presidenti di Camera e Senato, prendono il via oggi le consultazioni al Quirinale. Il difficile compito di Giorgio Napolitano sarà quello di conferire l'incarico ad un leader politico in grado di assicurare una maggioranza di governo stabile per il Paese. Un inizio sicuramente non facile per questa diciassettesima legislatura, vista la contrarietà del segretario PD Pierluigi Bersani a un esecutivo di larga intese con il PDL e il perdurare del muro dei grillini che continuano a proclamare il loro netto rifiuto ad appoggiare un governo dei partiti. Il Paese però, come è stato spesso ribadito negli ultimi tempi, ha assoluto bisogno di essere governato e i tempi d'azione si assottigliano drammaticamente. Le danze si sono aperte questa mattina alle dieci con la salita al colle dei neopresidenti delle Camere, Laura Boldrini e Pietro Grasso. Poi sarà la volta dei rappresentanti dei partiti più piccoli, mentre bisognerà attendere domani perché siano ricevuti i leader del Movimento 5 Stelle, DPD, PDL e Lega. L'ultimo ad essere ammesso a colloquio con il Presidente della Repubblica sarà proprio il segretario del Partito Democratico, Pierluigi Bersani, che probabilmente verrà anche insegnato dell'incarico. La strada delle consultazioni, tuttavia, questa volta appare molto più intricata e complicata del solito.